Buonasera, buongiorno, anzi buonasera perché noi siamo quasi pronti per mangiare perché è sera ma volevo dirvi che abbiamo organizzato, c'è anche bella, vieni amore, abbiamo organizzato una cosa così su due piedi, vuoi salutare? Ciao! Mi sa che qua ci dobbiamo vestire perché c'è freschetto, siamo a Pontimbrea, faccio vedere la nuova area camper, l'hanno rifatta completamente, bellissima, quindi per i camperisti vi consiglio questo posto perché si sta molto bene, però non siamo venuti solo per fare camperterapia, siamo venuti a fare terapia nella terapia, cioè praticamente vi faremo vedere cosa abbiamo deciso di fare, domani sarà una giornata ricca di cose da fare, bellissime, ora vediamo un posto dove siamo gli unici in quest'area per camper, speriamo che arrivi qualche camperista, così ci fa compagnia, se no vabbè noi stiamo bene anche da soli, quindi adesso mettiamo un camper a posto e mangiamo perché abbiamo fan. Andate a fare un giro in paese come avete visto e domani ci aspetta una bella giornata, come vedete c'è un bel fresco qua, si sta veramente veramente bene, dormiremo perché scendono le temperature anche fino ad arrivare a 15 gradi qua, direi che va bene. Veramente non vedo l'ora che arrivi la giornata di domani perché ci sono tantissime cose, tantissime esperienze che faranno i ragazzi ma non solo loro anche noi, saremo insieme agli amici, sicuramente passeremo una bella giornata che condivideremo con voi. Buongiorno, ecco è arrivato il bellissimo giorno in cui i ragazzi faranno tantissime cose, ho fatto già la doccia, siamo sistemate, è già iniziato in piazza quindi noi andiamo perché c'è tantissimo tantissimo fermento, ho già sentito l'elipottero stamattina volare, è un grandissimo evento nazionale ed è di mototerapia con bagno d'era ma non soltanto, ci sono tante cose quindi andiamo a fare mototerapia. E' stato bene? Però è l'aggettivo che ti danno i tuoi figli? Sì sì, sono diversamente giovane. Invece sono preistorico io. Sì, tu sei perso. Sei perso. E ora invece andiamo, guardate, sentite il rumore sottofondo? Eh, l'elicottero. Non vedo l'ora. Ma guarda, ma un po' meno, no? Guarda. E' la cosa che amo più di tutte le cose. Volare con l'elicottero. No. No, ho paura. Anch'io, anch'io. Siamo i due. Anch'io. Allora. Guarda, guarda, guarda! Guarda che bello! Bellissimo! Ti piace, eh? È tutto buono! È bella, ti piace questo! Ciao, ciao! Magazzi! C'erano i suoi! Dove? C'erano solo i cristalli da mezzogiorno! E che ora sono? Ci aspettate? Andiamo sul gruppo! Pronta? Puoi dare una lina, ci vuole! Andiamo in acquaiele! Sì! Guarda! Guarda, guarda, guarda! Ma qualcuno ci ha portato nel fiume così! Guarda! Sì, ti diverti, ti diverti, tutto benissimo, hai fatto la stessa cosa che fanno i militari, lo sai, hai visto? Come andate lei? Ha saltato a fintare, mi stai piacere, mi stai piaceremente sconvolta, sono due pieghe, noi abbiamo traballato, vabbè ti dico, destra, sinistra, occhio che c'è il ciclista davanti, tu hai fresco, che pedaliamo, poi giriamo, aspetta che c'è una macchina, L'abinca è super kib zingata, io ho fatto giù sul brasso armai E' sul bruto Mi stai aderli, vai Vai, vai, adesso passo più atletico Dai per me, allora Vai Così, bambi, ciao Di fai le gambe? Ah, quasi sta bene Fammi due gambe, fatto bello fresco fanno fatica gli altri senti senti buco no Paolo è un cane pericolosissimo questo piano piano ma che spettacolo no vieni qua ehi e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.